Il futuro dell'archeologia, guardare al futuro attraverso l'archeologia, com'è possibile? È possibile in più modi innanzitutto. Un modo è quello della fruizione classica, quindi il piacere della conoscenza. Una strada che anche il legislatore ha percorso ultimamente è quella di far entrare l'archeologia e quindi la conoscenza del passato anche nella pianificazione e nell'elaborazione di strategie di pianificazione territoriale del futuro. E questo sicuramente è quello che più potrà incidere sul nostro futuro. Quindi tra le due, visto che è una disciplina ancora più giovane, l'archeologia è vista come strumento a supporto della pianificazione territoriale, non in maniera passiva e ostativa, ma in maniera attiva per dare indirizzi di quello che è successo in passato per banalmente non ripetere errori anche nel futuro. Di questo si è parlato con l'Ecomuseo del Casentino per il futuro della memoria a Subbiaone. Francesco Trenti non è solo il direttore del Museo archeologico del Casentino, ma è anche inserito all'interno del gruppo di lavoro del piano strutturale intercomunale dei comuni di Capolone e Subbiano. Insomma, l'archeologia è inserita nel piano, ma non nei piani operativi comunali. E in questo caso, dice lui, è un po' come un articolo della Costituzione. Inserire l'archeologia in questo senso lo rende anche più chiaro agli amministratori, perché devo essere sincero, ancora manca un po' di sensibilizzazione, ma è normale, perché è una cosa abbastanza recente, è stata introdotta soltanto con l'ultima revisione dei codici. E quindi, diciamo, in un primo momento l'archeologia è sempre vista come qualcosa. Oddio, arriva la sovrintendenza e ci ferma. Il rischio c'è se vengono fatte delle azioni scriteriate, altrimenti deve essere visto come un'opportunità per capire la gestione ottimale del territorio.